La nostra regione è interessata da un campo di alta pressione insediatosi sul Mediterraneo centrale al seguito dell'irruzione fredda che ci ha interessato nei giorni scorsi e la quale ha determinato condizioni di instabilità in un contesto termico a chiara connotazione invernale. Infatti è ritornata la neve sui nostri monti con i fiocchi bianchi che hanno fatto la loro comparsa persino fin sulle basse colline del nostro territorio. La circolazione ormai è mutata grazie al rinforzo dell'alta pressione e all'inserimento di correnti miti di provenienza oceanica. Questo grazie alla formazione di una depressione in prossimità della penisola iberica, la quale nel corso di questo fine settimana causerà un nuovo peggioramento, ma questa volta limitato solo alle regioni settentrionali e parte di quelle centrali. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto sulla nostra regione per questo weekend. sabato 10 aprile cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Qualche foschia e locale banco di nebbia potrebbe interessare nottetempo e al primo mattino le vallate pianure interne. Temperature in aumento, venti deboli da sud sud est e mare quasi calmo o poco mosso. Domenica 11 condizioni di cielo poco nuvoloso con modesti passaggi di rubi stratiformi ma senza precipitazioni. In serata la nuvolosità è prevista in ulteriore aumento e non è da escludere qualche isolato piovasco sul settore più settentrionale della regione. Temperature in ulteriore aumento con valori che si porteranno di qualche grado al di sopra della media stagionale. Venti deboli da scirocco e mare poco mosso con tendenza all'ievo aumento del moto ondoso a largo. Nei primi giorni della prossima settimana la depressione sulla Spagna si sposterà verso est interessando più direttamente la nostra penisola e probabilmente tra martedì e mercoledì coinvolgerà anche la nostra regione determinando possibili precipitazioni e a seguire una moderata diminuzione delle temperature. Tuttavia l'evoluzione appare ancora molto incerta pertanto invito i telespettatori a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.